Ma il peggio non finisce qui perché o Todd Phillips ha avuto un tracollo mentale oppure ha scelto di fare deliberatamente un film vergognoso. Il tanto atteso sequel di Joker si apre con una parte animata che rimanda al primo film. Già da qui si intuisce che di rimandi al primo film ne troveremo a decine sparsi per tutto questo sequel. Ritroviamo Joaquin Phoenix, sempre scheletrico, a Gotham City, con una colonna sonora che ci ricorda quella del primo film, una fotografia che sembra quasi fotocopiata e non si discosta da quanto abbiamo già visto. Fin qui niente di tragico, scelte decisamente poco coraggiose visto il coraggio che ci è voluto per fare un sequel del film del 2019. Entra in scena Lady Gaga, lì, diminutivo per Arlene Quinzel e la prima cosa che fa qual è? Puntarsi una mano alla testa facendo il segno della pistola. Ma non vi suona familiare? Eh sì, perché Todd Phillips ha deciso di imboccarci fino alla nausea di tutti quegli elementi che hanno reso iconico il primo Joker. E quindi rivediamo Arthur che guarda fuori dal finestrino le luci della città, la famosa scala, il puta smile on it, il calcio del ballo di Arthur, la risata di Arthur che sembra sempre ogni volta di più sforzata e addirittura alla citazione letterale del Hugh Warren Garrett. Insomma è un tributo ossessivo al primo film, quasi come se non fossero riusciti ad andare oltre all'opera precedente. Qual è il colpo di genio? La metacitazione. Cioè i personaggi fanno riferimento e più di tre volte nel film al film di Joker. Cioè al primo film. Cioè lì a un certo punto esclama da quando hanno fatto il film su di te sei diventato una star. Ma in che senso? Ma cosa stiamo dicendo? Ma quanto vuoto devi essere per autocelebrarti così? Cioè io quando l'ho sentito la prima volta mi stavo sentendo male. Ma perché? Ma di cosa stiamo parlando? Ma il peggio non finisce qui perché o Todd Phillips ha avuto un tracollo mentale oppure ha scelto di fare deliberatamente un film vergognoso. La storia incomincia con Arthur che si trova nell'Arkham Asylum. Benissimo. E cosa fanno? Cosa fanno? Lo iscrivono a un corso di musica. Cioè il Joker uno dei villain più complessi ed enigmatici di sempre lo iscrive a un corso con il coro musicale in prigione tra l'altro. Poi da qui il personaggio di Lady Gaga Arlene Quinzel trasforma tutto in un musical. E molti dicono no ma non è un musical. No 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 non si può definire musical. Verissimo. Non ricade perfettamente nella categoria di musical. Ma non ce ne frega niente che ricada nella categoria perfetta per definirlo musical. Questi cantano. Cioè questo è l'importante. Chi se ne frega? È un film musicale? È un musical. Non ce ne frega niente se è un musical vero e proprio. Questi due cantano. Il tutto succede solo nella loro testa. Fino a qui potremmo dire vabbè sono gusti. Cioè chi piacciono i musical o comunque i film dove ci sono delle canzoni e chi no. Giustissimo. Parliamo della storia. Ma viene da ridere. Qual è la storia? Cioè Todd Phillips and Company decidono con molto coraggio di produrre un sequel di Joker. Il film di cui nessuno, nessuno, nessuno aveva bisogno. Ci buttano dentro Harley Quinn. Lo chiamano Follia 2. Un titolo che insomma promette caos, disordine, esplosioni di follia tra due menti disturbate. E cosa fanno loro? Centrano tutta la narrazione sul processo. Ma a me cosa me ne frega del processo? A noi non ce ne fregava niente del processo. Io volevo vedere Joker e Harley Quinn che distruggevano la città. Cosa me ne frega del processo per le cose che ha fatto nel primo film? Cioè a te ti è imploso il cervello. Ma come pensi che sia una roba logica? Come pensi che sia quello che gli spettatori vogliono vedere? Il processo. Ma che me ne frega del processo? Cioè tu resusciti Joaquin Phoenix come Joker. Quindi deve dimagrire, fare un sacco di lavoraccio per entrare di nuovo nella parte. E tu lo rinchiudi in una stanza di un tribunale a cantare con Lady Gaga. Come dicevo nel vlog a Venezia, ma queste folie d'eux dove sono? Perché io non le ho viste. Poi tra i due personaggi incomincia completamente a caso, soltanto perché sono ovviamente Joker e Harley Quinn, una relazione. Ma va bene così. E da qui in poi il film si trasforma in un grande Lady Gaga show. In più scomodano anche il nome di Harley Quinn. Perché il personaggio di Lady Gaga non ha niente di Harley Quinn. Che è un personaggio pazzo, dinamico. Non aveva nulla di tutto ciò. Cioè almeno Harley Quinn non è così. Perché? Per farmi andare a me al cinema che sono fan di Harley Quinn e dire Ah, vado a vedere un film dove c'è Harley Quinn. È vergognoso. Il film ha una storia talmente noiosa e priva di senso che sono addirittura costretti ad inserire pezzi di scene del primo film per tappare i buchi. Perché altrimenti non so come sarebbe rimasto in piedi il film senza cui tappa buchi. In conclusione, secondo me Joker 2, Folia 2 è una presa in giro. Non solo non aggiunge nulla di nuovo perché diciamocelo chiaramente non ne avevamo bisogno è cascato nella trappola dei sequel e cioè che rischia di rovinare l'eredità di un film che poteva rimanere unico. Io come vedete l'ho odiato cioè mi sono sentita veramente presa in giro. Fatemi sapere nei commenti se a voi è piaciuto o se siete d'accordo con me per me è assurdo che possa piacere un film così però sono curiosa di sapere se a qualcuno è piaciuto magari a qualcuno cui piace la parte musicale comunque anche tante cose decenti chiaramente è un film con 200 milioni di budget 200 milioni non è da buttare completamente per me è solo una questione di storia. Fatemi sapere nei commenti ma se invece avete visto il video per cercare di capire se ne valesse la pena la risposta è no. Tenetevi bello il ricordo del primo film.